Un pesce misterioso e pauroso è stato pescato a largo delle coste dell'Algarve in Portogallo, corpo da squalo e denti, 300 da serpente. Si tratta, secondo i ricercatori spagnoli, di una specie di squalo che vive solitamente tra i 500 e i 1000 metri di profondità. Secondo gli scienziati dell'Istituto di Meteorologia Sismica Marina Atmosferica Nazionale nel Portogallo, è un vero fossile vivente, perché la sua struttura è rimasta la stessa per 80.000 anni.